Lo hanno arrestato in fragranza di reato per sequestro di persona aggravata. Lui è un giulese con precedenti di polizia per le stupefacenti. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri del reparto territoriale. Una notte da incubo per una giovane donna e dei suoi figli, iniziata a mezzanotte circa, quando il proprio marito, per motivi ancora da chiarire, la chiude in camera da letto nella loro casa coniugale di Albani Toccella, assieme ai figli minori di cui una di appena un mese. Ed ignora ogni sua richiesta di aprire la porta per permettere alla donna di allattare la neonata. La giovane moglie quindi ha mandato un messaggio alla propria madre ed alla sorella per chiedere aiuto. Le donne, con grande rapidità, poco prima dell'una, hanno allertato i carabinieri al numero di emergenza 112. I militari dell'arma sono intervenuti sul posto in pochi istanti ed immediatamente, con professionalità e freddezza, si sono accorti della gravità della situazione, in quanto l'uomo, baricatosi in casa, in stato di forte alterazione, ha rifiutato di aprire la porta. I militari, a quel punto, dopo il rapido intervento dei vigili del fuoco o del distaccamento locale, con autoscala attraverso cui la donna ed i piccoli sono scesi dalla finestra del primo piano, hanno iniziato una vera e propria azione di negoziazione con l'uomo. Quest'ultimo ha tentato di fuggire, rampicandosi tramite la grondaia sul balcone del piano superiore. Solo le capacità persuasive dei carabinieri sono riuscite a ricondurlo a più miti consigli, tanto da consegnarsi agli operanti e all'ambulanza del 118 per l'ulteriore corso della vicenda, in quanto l'uomo ha accusato un malore. L'arrestato, condotto in caserma per le ulteriori formalità, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto presso la casa circondariale di Gela per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.